Oggi continuiamo il nostro viaggio nella conoscenza e nella saggezza di questo meraviglioso libro Libertà per tutti Una applicazione pratica della Bibbia Andiamo a vedere un capitolo intitolato Desiderio, la parola di Dio E già questo ci dice tutto E poi inizia con un passaggio di Isaia 55,11 che dice così Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca Non tornerà a me vuota Ma compierà ciò che mi piace E prospererà nella cosa per cui l'ho mandata Dio ti parla attraverso le tue aspirazioni fondamentali Le nostre aspirazioni fondamentali sono parole di promessa o profezie Che contengono in sé il piano e il potere di espressione Per aspirazione fondamentale si intende il tuo vero obiettivo In secondo luogo riguardano il modo di realizzazione Dio e il tuo io sono ti parla Al tuo stato cosciente condizionato Attraverso le tue aspirazioni fondamentali Le aspirazioni secondarie o le modalità di espressione sono i segreti Sono i segreti del tuo io sono Il padre onnisciente Nostro padre io sono Rivela l'alfa e l'omega Io sono il principio e la fine In Apocalisse 1.8.22.13 Ma non rivela mai il centro o il segreto delle sue vie Cioè il primo si rivela come la parola Il tuo desiderio fondamentale L'ultimo è il suo adempimento La parola fatta carne Tutto ciò che c'è nel mezzo Cioè il piano di sviluppo come arriva da noi Non viene mai rivellato all'uomo Ma rimane per sempre il segreto del padre Poiché rendo testimonianza a ogni uomo Che ode le parole della profezia di questo libro Se qualcuno aggiungerà a queste cose Dio aggiungerà a lui le piaghe che sono scritte in questo libro E se qualcuno toglie dalle parole del libro di queste profezio Dio toglierà la sua parte dal libro della vita Ibi 22.18.19 Le parole profetiche di cui si parla nel libro dell'Apocalisse Sono le tue aspirazioni fondamentali Che non devono essere ulteriormente condizionate L'uomo aggiunge e prende costantemente da queste parole Non sapendo che il desiderio di base contiene il piano E la forza di espressione L'uomo non fa che compromettere e complicare La realizzazione del suo desiderio Ecco un esempio di ciò che l'uomo fa Delle parole della profezia I suoi desideri L'uomo desidera la libertà dei suoi limiti o problemi La prima cosa che fa dopo aver definito il suo obiettivo È condizionarlo su qualcos'altro Comincia a speculare sul modo di acquisirlo Non sapendo che la cosa desiderata Ha un modo di esprimersi tutto suo Inizia a pianificare come ottenerlo Aggiungendo così alla parola di Dio Wow, questo è molto molto importante Ecco perché tante volte non arrivano a noi Le nostre manifestazioni Perché aggiungiamo E cioè gli stiamo dicendo a Dio Come arrivare quello a noi Attraverso quale persona Attraverso quale via deve arrivare E come deve arrivare Se dall'altra parte non ha un piano O una concezione per quanto riguarda L'adempimento del suo desiderio Allora compromette il suo desiderio Modificandolo Sente che se sarà soddisfatto Con meno del suo desiderio di base Allora potrebbe avere Una migliore possibilità di realizzarlo In tal modo toglie dalla parola di Dio L'individuo e le nazioni allo stesso modo Violano costantemente questa legge Del loro desiderio fondamentale Tramando e pianificandolo La realizzazione delle loro ambizioni In tale modo aggiungono Alla parola di profezia O scendono compromessi con i loro ideali Prendendo così dalla parola di Dio Il risultato inevitabile Sarà la morte e la pestilenza O il fallimento e la frustrazione Come promesso per tali violazioni Dio parla all'uomo solo per mezzo Delle sue aspirazioni fondamentali E i tuoi desideri sono determinati Dalla tua coscienza di te stesso Di per sé non sono né buoni né cattivi Questo passaggio è fondamentale da capire I desideri sono determinati Dalla tua concezione di te stesso Cioè Tutto quello che noi siamo consapevoli di essere E di avere In base a queste credenze In base a queste concezioni di noi stessi Se noi meritiamo Se noi Insomma Tutto ciò che noi concepiamo di noi Assolutamente tutto In base a ciò Atteriamo a noi Questi desideri In base a queste credenze Noi siamo come un magnete Per questi desideri Di per sé non sono né buoni né cattivi Siamo noi A dargli un significato In base a cosa? In base alle nostre credenze In base a ciò che noi crediamo di noi In base a come ci giudichiamo Perché è qui che la cosa si fa grossa Quando ci guardiamo allo specchio Iniziamo a giudicare il nostro aspetto L'aspetto del corpo Iniziamo Insomma a fare ciò che di solito facciamo Andiamo avanti Dice So E sono persuaso Dal Signore Cristo Gesù Che non c'è nulla di impuro di per sé Ma per colui che vede qualcosa come impuro Per lui è impuro Romani 14,14 I tuoi desideri sono il risultato naturale E automatico Della tua attuale concezione di te stesso Questo punto è molto molto importante E centrale capire ciò che abbiamo Di cui ne abbiamo parlato poc'anzi I desideri sono il risultato automatico Di quello che pensiamo di noi Dio La tua coscienza incondizionata E impersonale E non fa eccezione Per le persone Atti 10,34 Romani 2,11 Cioè La tua coscienza incondizionata Dio Dà la tua coscienza condizionata Per mezzo delle tue aspirazioni fondamentali Ciò di cui il tuo stato condizionato Cioè la tua attuale concezione di te stesso Crede di aver bisogno Finché rimarrai nel tuo attuale stato cosciente Continuerai a desiderare Ciò che ora desideri Cambia la tua concezione di te stesso E cambierai automaticamente la natura dei tuoi desideri Quindi quando tu vuoi cambiare Che cosa Quando vuoi cambiare il tuo mondo esterno Inizia a stimare te stesso Inizia a valutare te stesso A dare valore a te stesso Sapendo ciò che sei Pura coscienza Dio La coscienza incondizionata Devi dare valore a te stesso E cambiando la tua concezione di te stesso Cambierai automaticamente La natura dei tuoi desideri I desideri sono stati di coscienza Che cercano l'incarnazione Sono formati dalla coscienza dell'uomo E possono essere facilmente espressi dall'uomo Che li ha concepiti I desideri sono espressi Quando l'uomo che li ha concepiti Assume l'atteggiamento mentale Che sarebbe suo Se gli stati desiderati fossero già espressi Ora Poiché i desideri Indipendentemente Dalla loro natura Possono essere espressi Così facilmente Fissando particolari atteggiamenti mentali Una parola di avvertimento Deve essere data a coloro Che non hanno ancora Realizzato l'unità della vita E che non conoscono la verità fondamentale Che la coscienza è Dio L'unica E unica realtà Questo avvertimento è stato dato all'uomo Nella famosa A regola d'oro Non fate agli altri Ciò che non vorreste fosse fatto a te Matteo 7,21 Potresti desiderare qualcosa per te stesso O per qualcun altro Se il tuo desiderio riguarda un altro Assicurati Che la cosa desiderata Sia voluta Veramente dall'altra persona La ragione di questo avvertimento La ragione di questo avvertimento è che la tua coscienza è Dio E' il dispensore di tutti i doni Pertanto ciò che senti e credi essere vero per un altro È un dono che gli stai offrendo Un dono che non viene accettato Ritorna al mitente Ecco perché dobbiamo essere assolutamente certi Che vorremmo con tutto il cuore possedere noi stessi quel dono Poiché se fossimo una certa credenza in noi Relativa a qualcun altro Ed è una condizione che egli non accetta come vera per sé Tale dono rifiutato Si incarnerà nel nostro stesso mondo Questo passaggio va compreso A fondo E cioè Se auguro a qualcuno delle cose E vedo per loro delle cose belle Se loro non le accettano Cioè se io parlo con te E so che è un problema Che magari è un problema finanziario E dentro di me Dico Beh speriamo che vinca Speriamo che Possa avere i soldi E non solo speriamo Ma anche ti vedo che hai risolto quel problema E ti mando la soluzione Ti vedo già Con la soluzione Che hai già risolto quel problema Ti vedo già che hai vinto Che ne so Al superenalotto Ti vedo già che hai ricevuto una donazione Che hai ricevuto Insomma Che hai già risolto Se quella cosa Tu non l'accetti Mentalmente A livello Subconscio Ciò che ti ho desiderato Torna a me Ma se desidero per te Una cosa brutta E tu non l'accetti Allora Quella cosa Torna A chi Lo ha mandato E cioè a me Quindi sia nel bene Che nel male Un dono che non viene accettato Ritorna al mittente Ecco perché dobbiamo essere assolutamente certi Che vorremmo Con tutto il cuore Possedere noi stessi Quel dono Poiché se fissiamo una certa credenza in noi Relativa a qualcun altro Ed è una condizione che Egli non accetta come vera per sé Tale dono rifiutato Si incarnerà nel nostro stesso mondo Ascolta e accetta sempre come vero per gli altri Ciò che vorresti per te stesso Così facendo Stai costruendo il paradiso intera Non fare agli altri quello che non vorresti Fosse fatto a te Si basa su questa legge Accetta come veri per gli altri Solo gli stati Che accetteresti volentieri come veri per te stesso Per poter creare Costantemente il paradiso sulla terra Il tuo paradiso è definito Dallo stato di coscienza in cui vivi Che è composto da tutto ciò che accetti come vero per te stesso E per gli altri Il tuo ambiente circostante è definito Dalla tua concezione di te stesso Più le tue convinzioni riguardo agli altri Che non sono state accettate da loro La tua concezione di un altro Che non è la sua concezione di se stesso È un dono Che ti viene restituito Se tu credi Che una persona è stupida Che non vale niente Che insomma Tutte le cose che crede di lui E quella persona Non ha quella concezione di se stesso Crede di essere una persona Insomma istruita Una persona Meritevole Allora Il dono che tu Ciò che hai desiderato Ciò che tu hai Quella concezione che hai avuto di lui Torna a te Ecco perché i suggerimenti Come la propaganda Sono boomerang A meno che non vengono accettati Da coloro Ai quali vengono inviati Quindi Il tuo mondo è un dono Che ti sei fatto La natura Del dono È determinata Dalla tua concezione di te stesso Più i doni non accettati Che hai offerto agli altri Non commettere errori Su questo La legge Non fa eccezione alcuna Scopri la legge Dell'auto Espressione E vivi in base a essa Allora Sarai libero Con questa comprensione Della legge Definisci il tuo desiderio Sai esattamente cosa vuoi Assicurati che sia desiderabile E accettabile L'uomo saggio E disciplinato Non vede ostacoli Alla realizzazione Del suo desiderio Non vede niente Da distruggere Con un atteggiamento mentale Fissato Riconosce Che la sua La cosa desiderata È già pienamente espressa Poiché sa Che uno stato soggettivo Fissato Ha modi e mezzi Per esprimersi Di cui nessun uomo sa Prima che me lo chiedano Ho risposto Isaia 65-24 Ho modi che voi non conoscete Isaia 42-16 Le mie vie sono inaccessibili Romani 11-33 L'uomo indisciplinato D'altra parte Vede costantemente opposizione Alla realizzazione Del suo desiderio E a causa della frustrazione Forma desideri Di distruzione Che crede fermamente Debbano essere espressi Prima che il suo desiderio Fondamentale Possa essere realizzato Quando l'uomo scopre Questa legge Di una unica coscienza Comprenderà La grande saggezza Della regola d'oro E così vivrà Secondo essa E Proverà A se stesso Che il regno Dei cieli è sulla terra Capirai Perché non dovresti Fare agli altri Quello che non vorresti Fosse fatto a te Saprai Perché dovresti Vivere secondo Questa regola d'oro Perché capirai Che il farlo Risponde A semplice Buon senso Dato che Questa regola Si basa Sulla legge Immutabile Della vita E non fa eccezione Alcuna La coscienza È la sola E unica realtà Il mondo E tutto ciò Che contiene Sono stati di coscienza Oggettivati Il tuo mondo È definito Della tua concezione Di te stesso Oltre che Della tua Concezione Sui altri Che a sua volta Non corrisponde Alla concezione Che gli altri Hanno Di loro stessi Il racconto Della Pasqua Ebraica Ti aiuterà A voltare le spalle I limiti Del presente E a pensare A uno stato Migliore E più libero Il suggerimento Di seguire L'uomo Con la bocca D'acqua Marco 14 13 E Luca 22 10 Fu dato Ai discepoli Per guidarli All'ultima cena E alla festa Della Pasqua L'uomo Con la bocca D'acqua È l'undicesimo Discepolo Simone Il Cananeo La qualità Della mente disciplinata Che presta ascolto Solo Alle condizioni Degne Nobili E gentili La mente Che è disciplinata Partecipare Soltanto A buoni Banchetti Basati Sulle migliori Condizioni Incarnano Tutto il bene Di questa terra Se anche tu Parteciperai All'ultima cena La grande festa Della Pasqua All'altro Quest'impresa È compiuta Con l'aiuto Dei 12 discepoli Che sono Le 12 qualità Disciplinate Della mente Di qui Ne abbiamo Già parlato Nel libro La tua fede E la tua fortuna Allora Qui finisce Questo capitolo Io mi fermo qui E domani Partiamo da qui Grazie mille Ciao a tutti Grazie Grazie mille